sabatini sabatini ma dai su ragazzi e ragazze avete sentito le parole avete visto i video di sandro sabatini giornalista mediaset che si è offeso per le parole per il video di turam in risposta alle sue frasi di un anno fa dove diceva che l'inter non si era rinforzata perché aveva dato via onana e aveva preso sommer aveva dato via brozovic e aveva preso frattesi aveva dato via scrignar e aveva preso bisec poi aveva dato via gecko e aveva preso proprio turam e quindi c'era stato un downgrade e giustamente dopo un anno con lo scudetto in tasca turam ha risposto a quelle frasi no con un video se vogliamo anche abbastanza carino non so se l'avete visto e sabatini si è offeso adesso leggerò le sue parole voglio il vostro commento qua sotto cosa ne pensate però intanto un benvenuto a tutti dal vostro enrico caffarelli che vi invita a supportare questo video con un like con un mi piace per farlo girare ti invita anche ad iscriversi ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto ho anche un secondo canale ti lascio qua sotto il link in descrizione caffarelli solo calcio è un canale nuovo aiutatemi a farlo crescere ragazzi io adesso vi dirò la mia cosa ne penso però si è creata una situazione surreale perché sandro sabatini sandro sabatini ritorna sul post social dell'attaccante dell'inter a radio radio mattino sport e news turam la prendo con filosofia tutto parte da un pronostico sbagliato abbastanza surreale come cosa turam non si rende conto che l'ironia la leggerezza la mia risposta ironica non corrispondono poi a 5.000 messaggi offensivi che io ho ricevuto in 48 ore lo dico seriamente quindi lui parla anche seriamente di questo fatto ho un avvocato che mi tutela contro l'odio social ma se succede ad un ragazzino di 20 anni fa una bruttissima fine dal punto di vista psicologico turam non so se 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 ne è reso conto ma credo che sia un dovere per i giocatori calcolare anche le conseguenze oggi ho ricevuto odio puro ha ricevuto odio puro allora che lui abbia un avvocato contro gli odiatori seriali sui social questo magari è anche giusto perché si deve tutelare no io sulla mia pelle l'ho vissuto ci sono persone che sono veramente cattive qui sui social ma se tu posti un video dove dici che l'inter si è indebolita facendo riferimento a turam espressamente a lui e dopo un anno esattamente lui vince il campionato di serie a dominando essendo anche uno dei protagonisti assoluti di questa vittoria un video risposta te lo puoi anche aspettare qual è il problema poi se ti metti se ti metti in mostra se hai tutto questo seguito non è che puoi aspettarti soltanto rose e fiori no certo è pur vero che magari gli insulti no però qualche messaggio disfottò è normale che tu l'abbia ricevuto perciò secondo me non ti devi offendere perché io l'ho l'ho verificato quando dici una una frase una parola fai un video e poi si rivela l'esatto opposto di quello che tu hai affermato è normale che qualcuno ti vieni a scrivere sotto nei commenti no perciò tu non te la puoi prendere con turam che ha effettuato quel video carino lo ripeto ancora carino non ha detto nulla di male anzi ha fatto sentire le tue parole le tue frasi tutto qua ma non è che ha scatenato l'odio nei tuoi confronti turam ragazzi ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando l'odio è tutt'altra cosa l'odio non dovrebbe esistere sono io il primo a dirlo assolutamente però turam non è che con quel video con quel con quella risposta al tuo messaggio alle tue parole abbia voluto scatenare questa questa cattiveria nei tuoi confronti io non sono l'avvocato di turam però devi starci devi starci l'odio gli insulti no però che lui abbia fatto un video alle tue parole magari se l'era segnato sotto proprio sotto al palmo di una mano non aspettava altro non credo che abbia fatto nulla di male secondo me eh poi ragazzi sono pronto a fare un passo indietro se magari eh eh ci è andato giù pesante qualcosa eh io non l'ho notato di così grave per carità però io ho visto il video ho sentito le frasi le parole secondo me non c'è nulla di male e per quanto riguarda l'odio sui social questa è una piaga che c'è da tantissimo tempo e non finirà mai e fai bene ad avere un avvocato contro gli odiatori seriali poi se parliamo di ragazzini a vent'anni sì quello è vero e purtroppo ci sono persone che hanno eh sono deboli e quindi se vengono insultati possono avere delle conseguenze anche dal punto di vista psicologico su quello sono d'accordo con Sabatini però non mi sembra il tuo caso Sabatini perché anche a me insultano anche a me vengono a scrivere sotto i miei video e io poi non mi espongo come come te perché tu hai un grandissimo seguito Enrico Caffarelli no almeno per ora e quindi è normale che tu abbia ricevuto commenti sfottò certo gli insulti non vanno mai bene però hai avvocati che possono tutelarti e quindi rivedere quello che ti hanno scritto ragazzi voglio il vostro commento qua sotto cosa ne pensate senza insultare senza parlare male di nessuno ci stanno le sfottò ci sta la battuta per carità io sono il primo a dirle però cerco sempre di non offendere perché una persona ci può rimanere male la critica costruttiva va sempre bene e quindi quello che io ho detto oggi del video di turam in risposta alle frasi di Sabatini penso che non abbia detto nulla di male per quanto riguarda la mia le mie parole il mio contenuto il mio dialogo perché ragazzi si può sempre dire tutto io lo ripeto e lo ridico però bisogna essere anche tranquilli e sereni ed esporci in maniera costruttiva magari si lo sfottò ci può stare però gli insulti no e credo che abbia detto tutto ragazzi credo che abbia detto tutto adesso mi aspetto però il vostro messaggio qua sotto cosa ne pensate nel corso della giornata leggerò tutti i vostri commenti vi auguro un buon venerdì ci si avvicina al weekend una buona giornata lasciate un like iscrivetevi al canale ciao a tutti da Enrico Caffarelli un bacio